Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui continuo la rubrica dove risolvo dei puzzle in diretta e li commento spiegando un po' il ragionamento che faccio. Penso sia una rubrica molto molto istruttiva perché alla fine con la tattica, come dico sempre, si migliora tantissimo. Ma fare solo esercizi non basta, bisogna capire come poter trovare le combinazioni durante le nostre partite. E quindi lo spiego in questi video. Vi invito, se l'avete fatto, a cliccare il tasto iscriviti per non perdere i prossimi video e supportare il canale YouTube se è chi sta matto. Cliccare mi piace, se vi faccio in questi video, commentare per qualsiasi domanda, dubbio, opinione o considerazione. Allora, cominciamo subito. Mi è spuntata questa posizione. Allora, iniziamo un attimo. Cosa noto subito? Anzi, no, prima di tutto il materiale. Materiale pari. Ok, materiale pari. Noto subito che il suo re è molto esposto. Blocca anche la sua torre, ha perso la possibilità di arroccare. Quindi il bianco è certamente in svantaggio. Il tema non l'ho detto. Scelgo sull'ICS le posizioni per tema. Il tema di oggi è l'inchiodatura. E effettivamente notiamo che c'è un pedone F2 inchiodato. Quindi, questo per me non si può muovere. Questo che significa? Che volendo, noi potremmo anche giocare il cavallo G3 scacco dando un attacco doppio. Però c'è il cavallo che ci cattura. Noi catturiamo e non abbiamo fatto nulla. Ma che succede se noi eliminiamo questo cavallo? E dunque la mossa che viene in mente è donna per cavallo. Perché dopo donna per cavallo G3 scacco è un triplo. Ma ovviamente catturiamo la regina. Come sempre, non bisogna muovere subito istintivamente. Invece a pensare, ci sono altre mosse buone? C'era una frase di... Mi ricordo che forse l'Hasker, aiutatemi se ve la ricordate, che diceva, se trovi una buona mossa, aspetta, cercane una migliore. Ecco, l'idea potrebbe essere questa. Però in questo caso io non vedo altre mosse buone. E quindi sono sicuro che donna per cavallo è la mossa corretta. Lui cattura e io do scacco. Quindi il primo F2 è inchiodato, non può catturare. Catturando vado in vantaggio di un pezzo. Bene, ditevi ai commenti se è tutto chiaro. Come sempre, se ci sono dubbi, li chiariamo. Oppure nel prossimo video vado un po' più piano. Al fine del 4, questa posizione, cosa notiamo subito? Che, ah beh, innanzitutto, come sempre, il materiale è... No, il bianco ha un peone in più, anzitutto ha due. 3-5, 3-6-7. Il bianco ha due peone in più, quindi siamo in svantaggio. Vediamo che la posizione del suo re è molto esposta. Però non ci sono pezzi sospesi. Perché una mossa che mi viene in mente è il cavallo per H5. Ma in realtà la sua regina è difesa. Quindi questo attacco di scoperta attualmente sembrerebbe non portare a nulla. Il suo re è detto che è esposto. E quindi un'idea interessante potrebbe essere quella di cercare di attaccarlo. E dunque sto pensando, per esempio, a F5. Che sfrutta anche l'inchiuratura del pedone. Quindi non può catturare di pedone. Non può catturare neanche di alfiere. Perché catturò l'alfiere. Quindi potrebbe essere una mossa. Però prima di analizzare vediamo altre candidate. Quindi abbiamo detto cavallo per H5, che sembra bene non andare. Abbiamo detto F5, che altre mosse potrebbero... Questa tosse da qualche giorno potrebbero essere interessanti. Allora, vediamo. Altre mosse, altre mosse, altre mosse. Non ne vedo. Non ne vedo. Ok, analizziamo queste due. Con lo per H5 l'escludo. Perché dopo toro per H5 non c'è nulla. La regina è albiettore difesa. Quindi niente. E dunque F5. F5 non può catturare. E io mi faccio la cattura. Deve muovere l'alfiere. Può andare in C6 o in B7. Quindi facciamo che muove l'alfiere in C6 o in B7. A questo punto possiamo catturare. Lui cattura. Il suo re è ancora più esposto, però continua a non vedere nulla. Anche se, per esempio, già mi spiega cavallo e 2 scacco. Dopo per una per, per una per. Perché? Perché se lui cattura, ho la possibilità di fare donna F4 scacco. Se è reggi 2. E' vero che ho aperto la corona F, ma non vedo nulla. Non sono sicuro che sia F5 la mossa giusta. Andiamo un attimo più in profondità. F5, F e via. Ah, vabbè, forse torre per D3. Semplicemente. Comincio a prendere un pedone. E soprattutto porto la torre in attacco. Forse è questa. Ok, devo unire le due idee che ho pensato. Probabilmente qualcuno di voi ce l'ha già arrivato. Perché praticamente l'avevo detta. F5, alfile e via. Pedone per, pedone per. Adesso c'è torre per D3 scacco. E sì, direi che è questa. Quindi F5. Lui cattura. Perché cattura? Perché ovviamente il motore... Ah no, è una partita vera. Ah sì, sì, non lui cesse e prende partita vera. Perché quindi il giocatore col bianco, giocatrice, ha visto che spostando l'alfiere ci sarebbe stata la cattura. A questo punto ovviamente catturiamo e prendiamo un alfiere. Sì, la partita è tra un 2100 e un 1968, come vedete nella schermata. Quindi se volete, anche voi penso potete reperire gli stessi puzzle che ho fatto. Anche se non so, qui c'è il link. Ah, guarda, è semplicissimo. Basta copiare questa stringa. Se dovete dirla proprio come gli informatici. Quindi FF0H0 e metterlo dopo training. Quindi proprio super super semplice. Ok, facciamo un altro test attico. Torrent C8, cosa vediamo subito? Innanzitutto vedo subito che l'alfiere C6 è inchiodato. Questa mi sembra abbastanza semplice. Però prima di andare subito a conclusioni affrettate, dobbiamo analizzare. Quindi 356, 367, abbiamo un peone in meno. Abbiamo un peone in meno, ma il resto è tutto pari. Il suo re è un po' esposto, soprattutto il peone D7, come vi ho detto, è inchiodato. La mia torre è fantastica, in settima. E a questo punto c'è poco da fare, se non catturare l'alfiere in C6. Donna aperto, reperto, reperto, reperto. Vediamo se sono mosse migliori, ma non ce n'è. Non c'è proprio null'altro. E quindi direi che donna per C6 è sicuro correttante. Attenzione, non con questa torre, se no mi cattura di pedone. Ma con questa, sì. Questa è proprio semplice semplice. E allora, facciamone subito un'altra. Ditemi quale tema tattico volete che... Madonna, questa tosse è incredibile. Quale tema tattico volete che porto nei prossimi video? Io ho già fatto attacco doppio, attacco riscoperta e ora inchiodatura. Se volete altri temi tattici, ditemi nei commenti. Ma nel frattempo, vediamo qui. Fatto donna per H6. Allora, posizione strana. C'è una torre impresa. Ok, mossa intermedia, abbastanza semplice. Posso vendere a catturare la regina. Altre idee. Non ne vedo. Ok, ho già capito la combinazione. Allora, ovviamente la mossa intermedia si fa. Perché catturare la regina porterebbe alla posizione svantaggiosa. Semplicemente è un cambio di regina e il verso lo può catturare. Quindi intanto è una mossa con scacco e si fa. Però non è finita qui. Perché dopo torre per torre lui per forza deve parlare di regina. Ma non bisogna catturare subito. Perché non bisogna catturare subito? Perché daremmo la torre per la regina. Invece c'è di meglio. Quindi, come dicevo all'inizio, quando vedete una buona mossa, aspetta, cercane una migliore. E perché c'è di meglio? Perché con la mossa alfiere per A2 noi possiamo deviare il re dalla difesa della regina. E quindi poi catturare la regina sacrificando un alfiere anziché la torre. E quindi ovviamente è un vantaggio. Poi vedete come andiamo poi come pezzi. Due pezzi, due pezzi, torre, torre. Vado qualità in più. Invece torre per, reper sarebbe pari. Quindi ovviamente vantaggioso. Attenzione, alfiere B5. Questo cambia tutto? No, in realtà non cambia niente. C'è la torre impresa, l'alfier in F1 era inchiodato. Qui semplicemente si può catturare. Mi cattura il cavallo, ok. Sposto la torre. C'è poco da fare. Come sempre, cerco di vedere sono mosse migliori, ma muovi il cavallo a poco senso. Non c'è lo scacco intermedio, sì. C'è veramente poco da fare. Ok, facciamone un ultimo, veloce. Donna in E7. 2, 4, 5, 2, 4. Abbiamo un pedone di vantaggio? No, perché è una torre per un alfiere. Quindi siamo sotto di qualità. Alfiere e pedone per torre. Il suo re è esposto. Ci sono dei pezzi sospesi. La sua torre è solo uno. La torre è in difesa. Direi che questi sono gli elementi principali di questa posizione. La regina è ovviamente inchiodata. E quindi questo che significa? Un pezzo inchiodato vuol dire che non si può muovere. E dunque in realtà la casa D7 è in difesa. Perciò il cavallo D7 sembra essere la mossa corretta. Come sempre, vedo un attimo, ci sono mosse migliori. Ma non mi sembra. E quindi giochiamo con le 7. E in realtà è un attacco doppio che sfrutta il fatto che la regina è inchiodata. Re via. E qui si può fare cavallo per torre. Oppure si può fare regina per regina. C'è una differenza tra le due mosse. Una è migliore dell'altra. In questo caso bisogna semplicemente calcolare. Non ci sono ovviamente concetti generali. Perché cavallo per torre è migliore? Perché dopo regina per, re per, cavallo per torre, torre per, andiamo pari torre due pezzi per torre due pezzi a parte i pedoni. Invece dopo cavallo per torre, regina per regina. Io non... Ah vabbè, io lo posso catturare. E rimango un pezzo di vantaggio. Sto pensando se c'è un intermedio con scacco ma non c'è niente. E quindi questa è la mossa migliore. A questo punto non ci sono intermedie, non ci sono mosse migliori. Catturo. Ditemi nei commenti se vi piace questa rubrica. Se volete altri temi tattici e chiedetemi nei commenti in modo tale che rispondo. E poi li porto ovviamente. E vi lascio dividere un'impressione sull'apertura che vi piacciono tanto. Così potete anche affondire le aperture. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.